May Chance Daily Life della Tetrovideo con il suo slipcase mettiamo dentro dentro è il DVD bello però mi piace il DVD fatto così allora questo è un film estremo quindi molto violento sapete che la Tetrovideo tratta quasi di esclusivamente cinema horror estremo del 2014 ora ve ne parlo bene ve ne parlo bene che Tetrovideo mi ha mandato insomma da recensire finalmente sono qua l'ho visto e mi ha sorpreso parecchio è un film estremo del 2014 diretto da Sado Sato Sado Sato giapponese che vi devo dire non vi sto a dire i nomi delle attrici e degli attori che ci sono nel cast perché tanto li direi tutti malissimo poi uscirà comunque una mia recensione scritta sul sito è uscito in questa edizione e in un'altra edizione che si chiama Golden Book Box numerata a mi sembra 15 copie addirittura quindi è proprio un'edizione rarissima cioè insomma fatta apposta per i super collezionisti Miyako la protagonista di questo film è ovviamente una ragazza giapponese sono tutti attori giapponesi è una ragazza in cerca di lavoro cerca un lavoro qualsiasi penso comunque trova su internet un lavoro come maid la la domestica non so se avete presente le maid giapponesi perché c'è tutto un discorso fetish su questa cosa delle maid non so se siete aggiornati ma adesso ve le faccio vedere e capirete farà un provino quasi dovrà superare una sorta di di audizione per essere presa nel quale verrà controllata misurata in ogni singola parte del corpo per andare a lavorare in questa villa lussuosa di quest'uomo ricco all'interno della villa scoprirà che ci sono ci sono altre due maid due domestiche una di queste per il piacere e il gusto del padrone di casa verrà umiliata torturata non uccisa però subirà delle ferite gravi amputazioni ripetutamente perché questa ragazza Mei si chiama quest'altra ragazza ha il potere di rigenerarsi quindi proprio perché ha questo potere il padrone si diverte continuamente a farle del male per poi aspettare che guarisca e ricominciare il gioco Miyako che è la ragazza che si inserisce nel gruppo di domestiche inizialmente rimarrà scioccata e turbata da questa cosa però chiaramente poi dopo succederanno delle robe che non vi dico abbastanza terrificanti vi faccio vi faccio vedere il trailer però vi faccio vedere il trailer perché senza trailer come si fa insomma ragazzi vediamoci il trailer così capite anche un po' di che si parla simbolo sembra tutto tranquillo ecco già si vede una motosega un po' di armi un po' un po' un po' giustamente non viene fatto vedere quasi nulla allora allora ovviamente non viene fatto vedere nulla di ciò che accadrà visto così sembra una cosa tranquilla chiaramente è un film indipendente come potete notare ci sono delle scenografie un po' spoglie insomma è un film è un film che si vede che è un film indipendente che è fatto con pochissimi soldi però devo dire che rispetto io vedo tantissimi film indipendenti di vario genere di vari paesi questo è veramente un film fatto con pochissimo budget ma con delle trovate incredibili il regista giocherà tantissimo con il bianco e nero e il colore quindi cambierà da situazioni a colore a situazioni bianco e nero c'è una musica che in realtà avete sentito qua nel trailer che secondo me non mi sembra che sia questa in realtà lui usa tantissime musiche classiche che sono praticamente penso si possano usare in libertà più che ingannevole non è proprio ingannevole perché in realtà il trailer è ammiccante ciao Stefi un saluto grande ciao Stefi stiamo parlando di un film grande Enrico anche a 212 buono buono bene sono contento scusate stop un attimo non è ingannevole nel senso che fa vedere qualcosa che nel film c'è cioè è ammiccante è un film sessualmente ammiccante cioè non ditemi che voi maschietti non avete pensato che questo film potesse ricordare o in qualche modo certi film hard diciamo per adulti giapponesi ecco sembra quello perché perché il film in realtà dentro anche se non è un film di quel genere ma è un film molto erotico dall'erotismo estremamente spinto con queste maid esatto come dicevo prima queste domestiche che sapete esiste tutto un feticismo intorno a questo tipo di abbigliamento della maid cioè una cultura anche non solo sessuale cioè ci sono tanti fan di questo tipo di cosa io non sono esperto di manga anime eccetera però so che comunque è una pratica che ha tutta una sua cultura quella di vestirsi proprio da da domestica comunque all'interno del film ci sono poi le parti violenti nel trailer non si vedono penso per scelta per evitare di farsi bo non lo so perché in questo trailer non ci sono magari in altri trailer ci sono però non conoscendo bene anche le cose che riguardano i ban di twitch ho scelto tranquillamente di farvi vedere questo perché non si sa mai chissà che un giorno io possa incorrere in qualche ban perché faccio vedere dei film magari un po' un po' violenti però si parla sempre comunque di film perché sono assolutamente contrario alla violenza diciamo esposta a video la violenza vera ecco la violenza vera esposta in un video assolutamente proprio non mi interessa non mi riguarda non mi piace anzi mi disgusta parecchio mentre invece mi sembrerà una cosa assurda per chi non ama questi film mentre invece mi fa molto piacere mi fa ridere mi fa mi dà soddisfazione invece quella finta perché è qualcosa di diverso secondo me è qualcosa che ha a che fare con l'estetica con l'immagine con la psiche quindi è tutto un altro ragionamento io per esempio non vedo comunque questi film come qualcosa in cui uno almeno non io personalmente non trago nessun piacere sessuale da queste cose o o neanche vicino però trago un piacere goliardico su certi film nel vedere per esempio appunto ammazzamenti personaggi che ti stanno sulle balle che finalmente vengono ammazzati malamente e anche mi fa ridere mi piace mi diverte l'effetto splatter ridicolo quando è palesemente fatto male anche un po' apposta ecco per far ridere per far divertire in questo film si ammicca tantissimo ci sono tante cose sessuali perché comunque queste maid queste domestiche verranno umiliate verranno trattate proprio come schiave quindi c'è il tema della sottomissione della dominazione cose che ad alcune persone piacciono anche e che nei limiti del rispetto reciproco sono assolutamente la gente libera di fare quello che vuole nei limiti appunto del rispetto e dei bisogni di tutti poi all'interno di questa situazione la protagonista vedrà appunto le torture perpetuate alla sua collega May si chiama appunto la collega torturata e ci saranno delle scene molto forti tipo ci sarà una pupilla inforchettata ed estratta e ingoiata cannibalismo amputazioni tagli proprio robe è abbastanza difficilino da guardare è abbastanza sadico come film però è anche simpatico nel senso che a volte gioca un po' ironizza anche con l'horror è molto simpatico almeno dal mio punto di vista il fatto che questa ragazza quando subisce dei tagli delle cose quasi fa dei gemiti quasi come di piacere invece che di dolore e questa è una cosa sicuramente che qualcuno potrà trovare anche erotica io l'ho trovata molto simpatica in realtà molto dissonante ci saranno anche delle scene in cui palesemente la ferita rappresenterà una rappresenterà chiaramente una vagina e l'arma o l'arto per cui la mano e il dito simuleranno degli atti sessuali sono diciamo delle allegorie anche abbastanza banali insomma non è che si sono viste la prima volta però il film è molto carino esteticamente perché lui il regista nonostante sia povero di mezzi fa tante inquadrature particolari è un giapponese quindi ha quel gusto ha quel gusto un po' stiloso dei giapponesi perché se avete visto i fumetti gli anime insomma sono molto avanti a livello visivo loro infatti essendo comunque un film indipendente estremo a bassissimo budget invece tira fuori delle cose cioè è molto godibile comunque come film io l'ho visto in giapponese con i sottotitoli in italiano nell'edizione da titolo video niente poi insomma se avete domande fatemele è un genere è un genere in realtà non è il mio genere preferito il genere gore estremo però è un genere che io stimo o comunque tengo d'occhio perché è l'unico che va oltre i confini di ciò che è lecito cioè noi viviamo sempre nei confini di ciò che è lecito fare invece queste persone fanno dei film completamente fuori di testa cioè che vengono comunque additati come film perversi film per pazzi film per fatti da pazzi per pazzi da psicopatici da pervertiti in realtà io credo che la verità sia un po' nel mezzo nel senso che ma neanche credo che in realtà questi film sono la giusta contrapposizione al perbenismo che c'è cioè noi siamo una società che non fa vedere neanche un pene in un film o una un seno neanche un seno vulgare magari una foto o un quadro un'opera d'arte su facebook su instagram non possono essere pubblicate queste cose per una sorta di censura siamo una società sempre più bigotta e allora questi film sono quasi l'alter ego la contrapposizione di questo atteggiamento cioè sono invece film che esorcizzano e esplorano ciò che può anche essere considerato sbagliato o marcio o distorto però esiste fa parte di noi magari non di noi nello specifico ma di alcuni di noi sì questi film parlano di deviazioni sessuali di ossessioni di di feticismi vari di anche qua c'è anche il tema della vorafilia e sono tutte cose che noi tendiamo a nascondere perché ne abbiamo paura abbiamo paura di affrontare questi argomenti perché ci sentiamo malati ci sentiamo sporchi no noi non dobbiamo necessariamente avere questo tipo di pulsioni però dobbiamo a livello di società secondo me essere meno pudici e affrontare quelli che sono i nostri dati più oscuri in modo molto più aperto e più consapevole in modo da poter anche risolvere delle questioni che possono creare delle frustrazioni delle repressioni quindi è importante non fingere che le persone siano tutte normali tranne quei quattro pazzi che fanno così tutti abbiamo delle cose che andrebbero di cui dovremmo avere la consapevolezza è un po' come il discorso della morte noi tendiamo questa società tende a tenere la morte come un concetto lontano da noi cresciamo praticamente convinti di essere indistruttibili e immortali tant'è che mangiamo malissimo fumiamo ci droghiamo beviamo facciamo cose pericolose tutta una serie di cose perché la morte è un concetto molto nascosto molto tenuto in disparte poi quando diventiamo più grandi invece diventa un tema principale della nostra vita ricorrente invece io credo che la nostra società farebbe bene avere un rapporto più onesto nei confronti della morte cioè essere consapevoli che è una realtà che c'è esiste però chiaramente questo tipo di consapevolezza va contro le dinamiche del consumismo del capitalismo va assolutamente contro e penso anche tutto il resto quindi io credo comunque che questi film per quanto possano essere comunque per un pubblico che vuole comunque scoprire qualcosa non per tutti quindi non mi sento assolutamente di criticare chi non li guarda anzi sono molto difficili da guardare però io li trovo le trovo particolarmente stimolanti perché quando li guardo mi sento molto a disagio mi sento disgustato mi sento e quindi sono sensazioni con cui io faccio i conti mentre li guardo che magari una persona non prova quasi mai nella sua vita perché non si mette mai nelle condizioni spiacevoli e uno potrebbe dire ma perché tu guardi questi film per essere per provare sensazioni spiacevoli perché mi piace conoscere il mio cervello la mia persona come reagisce alle cose esplorandola a livello intellettivo come potrei esplorare il mio corpo quando una persona cresce esplora il proprio corpo inizia a sentire a controllare un po' tutte le sue parti del corpo e le sue sensazioni da lì anche il tema della sessualità della masturbazione della sessualità con altri è un fattore di esplorazione per me guardare un certo tipo di cinema come anche altri tipi di cinema il cinema ipersentimentale che ti fa piangere che ti fa emozionare per me è la stessa cosa è provare emozioni e vedere come mi sento di fronte a certe emozioni quindi perché le guardo per questo motivo mi piace esplorarmi anche cerebralmente dentro emotivamente e intellettualmente e questi film insieme anche agli altri film come i film comici i film drammatici mi fanno provare le emozioni io le accolgo sia quelle che sono spiacevoli che quelle piacevoli chiaramente consiglio consiglio per gli utenti alternare alternare fa bene se no entrate in un mood troppo negativo e sicuramente vi può influenzare questo è un film estremamente divertente da quel punto di vista anche se appunto il cinema estremo non è il mio genere preferito però è veramente fatto bene volevo farvi vedere ecco una cosa che non ho detto una cosa che non ho detto ma è importante è che ed è una cosa che almeno nella mia personale esperienza di fruitore di questi prodotti è la prima volta che sento parlare di un film estremo Gore quindi Gore si intende per chi non lo sapesse dove c'è una violenza splatter molto insomma molto estrema non mi è mai capitato di vederli tratti da dei fumetti questo è tratto dall'omonimo fumetto Mei Chan Daily Life e non solo questo film è stato supervisionato comunque è stato fatto col supporto la consulenza dell'autore del fumetto lo scrittore l'autore del fumetto originale e questa cosa mi ha intrigato molto il fumetto mi interessa parecchio perché è un fumetto da quello che ho potuto vedere disegnato come i classici manga però chiaramente un fumetto Gore un fumetto horror violento dove la storia è leggermente diversa cioè nel fumetto la domestica che si può rigenerare può rigenerare il suo corpo viene praticamente fatta prostituire verso dei personaggi ricchi dei clienti che ovviamente hanno delle perversioni estreme quindi le fanno del male fisico tagliandola farendola amputandola e poi lei ovviamente potendosi rigenerare diventa sempre a disposizione tra l'altro io ci vedo anche delle grandissime metafore sul maschilismo e il diciamo è una 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 forte critica comunque alla donna oggetto perché chiaramente è una donna che tu malmeni violenti nel senso la violi anche nella sua fisicità distruggendola quindi è una cosa veramente orribile è qualcosa che tu consideri distruggibile e quindi un oggetto qualcosa che scuia un potere fortissimo no e il fatto che si rigeneri la rende un oggetto riutilizzabile e questo e questo secondo me è una grande allegoria del maschilismo della prevaricazione dell'uomo sulla donna sia a livello di società e di meccanismi della società sia a livello della singola persona che compie questo atto perché purtroppo questi atti ancora ci sono e ci saranno ancora per tanto perché sinceramente non ho grande fiducia nell'evoluzione dell'uomo nei prossimi più della tecnologia che dell'uomo ecco l'uomo non è molto ispirato ultimamente era molto più ispirato un secolo fa e quindi il regista in questo caso ha semplificato la storia rendendo l'un laguzzino unico di questa domestica solo il proprietario della casa il proprietario della casa la amputa la ferisce le fa del male poi dopo un po' quando si rigenera ricomincia il gioco questa è un po' l'unica diversità sono molto curioso di trovare il fumetto voglio vedere se riesco a trovarlo per leggerlo ma pare che sia abbastanza difficile questo è un po' tutto quello che riguarda May Chance Daily Life The Movie di Sado Sato di Sado Sato farò la recensione anche sul grazie Thomas sono contento che hai apprezzato ma infatti i film questi film sembrano sempre che non hanno un cazzo da dire e perché perché il la violenza sembra quasi il tema principale in realtà la violenza non è il tema principale la violenza è spesso usata nei film estremamente violenti è usata per smuovere l'anima delle persone a volte è proprio una specie di spartiacque di lascia passare di un metodo per entrare nell'intimità nell'emotività delle persone quindi è un momento in cui io la ma anche viceversa può succedere anche il contrario quindi tramite appunto certe emozioni più drammatiche io poi rendo più spaventoso il film quindi io ti faccio agitare per una situazione drammatica e poi ti colpisco con un evento violento oppure viceversa la violenza può essere un tramite psichico è come è interessante perché voi immaginatevi di essere un regista che vuole scuotere le persone ne mandare dei messaggi ecco è un po' come ipnotizzare le persone cioè io le prendo inizio a disturbare in una certa maniera e queste persone sono una specie di trans in quel momento cioè sono emotivamente sono alla mia mercè io le ho le ho messe in uno stato d'animo che a loro non piace e a quel punto io posso colpire con qualcosa quindi sono tanti i metodi con cui il cinema può fare delle cose comunicare delle cose sta a voi decidere se siete pronti a accogliere queste cose qua oppure no certo il cinema può essere grande Thomas grazie per il recupero indifferita nel caso della live molto gentile tra l'altro oggi non ho fatto pubblicità comunque se volete abbonarvi al canale farebbe anche molto piacere con Prime è gratis quindi questo è tutto per quanto riguarda questo film davvero interessante questo film estremo giapponese distribuito da Tetrovideo complimenti Tetrovideo si sta anche espandendo adesso io per il momento devo finire di recensire delle cose chissà poi se andrò avanti mi interessa comunque sempre è veramente una Tetrovideo alla particolare intanto di di essere veramente l'unica etichetta che conosco italo inglese insomma è un'etichetta mezza italiana mezza internazionale e questo è bello perché c'è loro portano qua delle cose ma portano anche di là portano all'esterno delle cose italiane all'interno delle cose straniere questo è fantastico è un canale culturale fantastico sono gli unici che fanno questo tipo di lavoro così verticale su questo tipo di film e quindi secondo me e poi stanno veramente creando tante etichette tanti tipi di film però sempre su questo genere quindi sono contento che ci siano spero che vadano avanti vanno supportati e niente questo è tutto per la recensione se state vedendo questo video su youtube lasciate un commento iscrivetevi al canale e poi ricordatevi di venire a seguirmi qua su twitch per poter anche intervenire durante le recensioni e tutto il resto ciao Grazie a tutti.